Buongiorno, sono Mirko Lazzarelli, servizio di MIA Group. Oggi parliamo del nostro elevatore penne. Questa linea, che vedrai nel video following, è per il zucchero e la capacità è di 16 m3 per l'ora. La capacità maximale che possiamo riuscire con questo tipo di elevatore è di 24,8 m3 per l'ora. In questa configurazione abbiamo due punti di laddamento e tre punti di laddamento. Tutta la struttura è realizzata nel stainless steel IZ304 e i bacchetti sono fatti nel stainless steel 2. Abbiamo due laddamenti di laddamento, che si tratta nel prodotto da un strutturale, gestito da un convertecente frequente. Prima di laddamento l'elevatore, il prodotto passa per un sifter vibrativo, che può riuscire il zucchero da plastica, pepe e altri prodotti. I due punti di laddamento sono fatti da elettropiomatici, che possono essere gestiti da un PLC. Per altre informazioni puoi controllare il nostro sito web, sentire un'email o un messaggio per Whatsapp. Grazie per aver guardato. Grazie per aver guardato.